Tra l'una e l'altra delle antiche strade consolari che si partono dal centro di Roma, spesso a pochi chilometri dal cuore della città, le borgate periferiche si presentano in tutta la loro indimenticabile fisionomia, in cui un osservatore frettoloso può solo notare il colore, la vivacità e la vitalità della folla. Ma chi si addentra in mezzo alle casupole e alle baracche non può non avvertire situazioni sociali e condizioni di ambiente che purtroppo sopravvivono ancora. Tutte le borgate di Roma hanno bisogno di provvedimenti e di cure edilizie urbanistiche e sociali, ma di esse, sono ben 52, alcune meritano una particolare attenzione. Sono quelle costruite in gran parte da abitazioni ricovero, come furono chiamate nell'epoca fascista, in cui vennero raccolti gli abitanti delle zone del centro, demolite a 30 anni orsono per ragioni urbanistiche, o coloro che, per motivi vari, dominanti tra questi la guerra con le sue distruzioni e l'affluenza di profughi da regioni devastate, non avevano più casa. Doveva trattarsi di un soggiorno provvisorio. Casa ricovero significa infatti un solo ambiente, spesso per tutta una famiglia. I servizi sono tutti esterni e in comune. Ma talvolta ciò che è provvisorio diventa definitivo e chi doveva restare in queste case qualche mese ha finito per rimanervi degli anni. Le cause di questo fenomeno sono molteplici, ma una è stata particolarmente grave. Il cambio segreto della casa tra vecchi occupanti che entrano in possesso di un altro e più soddisfacente alloggio e nuovi inquilini provenienti per lo più dal sud di Italia, che si insediano nella casa stessa poco prima che venga abbattuta. Qui siamo alla borgata Gordiani. Accanto alle case ricovero, che sono di proprietà dell'Istituto Case Popolari, si annidano molte altre baracche abusive. Metà della borgata è stata demolita e gli abitanti trasferiti in nuovi e salubri alloggi dei quartieri periferici di recente costruzione. L'altra metà andrà smantellata tra breve. Signora! Scusi signora, da quanto tempo abita qui? Sono 18 anni. Come è venuta in borgata? Dove abitava? A San Lorenzo, sono sinistrata di San Lorenzo. Ah, in seguito ai bombardamenti? Sì, sono stata sinistrata il 19 luglio e sono venuta in borgata. In quanti siete? Com'è composta la sua famiglia? Io, mio marito e due mastietti. I bambini vanno a scuola? Sì, vanno a scuola, ma sono ammalati tutti e due. È lontana la scuola? E, beh, vanno giù a Maranella. E il suo marito lavora? Beh, veramente lavorano l'ora, perché lavora in proprio. Che speranze ha? Le piacerebbe certamente avere una casa? Altro che essi non mi piacerebbe una casa. Sono 18 anni che sto a dormire due letti in una camera che fa schifo. Ha fatto già delle domande, ha cercato... Non ho fatto 14 le domande, gli ho portato tutti i certificati dei bambini, ma purtroppo non c'è niente da fare. Il borghetto latino è tutto fatto di case abusive costruite nelle più strane fogge e si estende sul tracciato dell'antica via latina tra la via Appia Antica e l'Appia Nuova. È circondato da rioni in forte espansione edilizia, ma resiste alla pressione di essi, poiché ogni tanto alle vecchie si aggiungono con la rapidità della fantomatica edilizia notturna che fu descritta in un celebre film Nuove Casupole, anche perché è continuo l'afflusso di numerose famiglie meridionali che giungono a Roma in cerca di lavoro. Aspetto non molto diverso presenta il borghetto prenestino che si accampa a fianco della via omonima. Anche qui, intorno ai vecchi alloggi dell'Istituto Case Popolari di Roma, si sono addossate molte ormai fatiscenti costruzioni abusive. La popolazione è in gran parte costituita di meridionali, in maggioranza calapresi. che riescono con enormi sacrifici, primo tra i quali l'accontentarsi di case senza acqua, senza servizi igienici, in cui la vita si svolge forzatamente all'aperto in tutte le stagioni, ad affrontare l'esperienza della grande città. Le fontanelle sono il centro del borghetto, occasione di incontri e, purtroppo, di litigi. Durante il giorno, poiché anche molte donne lavorano fuori casa, i bambini rimangono padroni del borghetto. I più piccoli giocano sotto lo sguardo delle sorelle più grandi, bambine anch'esse, a cui spesso è affidata la responsabilità delle faccende di casa. Ma vi è un insediamento abusivo, come lo chiamano i tecnici, ancor più deprecabile di quelli che abbiamo descritto. È fatto di legno e di latta e si annida sotto gli archi degli antichi acquedotti romani. Molte di queste cosiddette abitazioni mancano, oltre che dell'acqua e dei servizi igienici, della luce elettrica. L'uso di candele o di lucerne provoca spesso i mortali incendi di cui di tanto in tanto si occupano le cronache dei giornali. Queste capanne lungo le rive della Niene sono esposte al pericolo delle piene e delle alluvioni e gli abitanti si trovano spesso in pericolo di vita. Le situazioni che abbiamo voluto tratteggiare in tutta la loro cruda realtà sono state affrontate dal governo e dal comune. Il Ministro dei Lavori Pubblici ha creato, ora e un anno, una commissione con il compito di preparare un piano organico per la totale scomparsa delle abitazioni malsane e per la sistemazione in nuovi insediamenti urbani degli abitanti di esse. Qui siamo a Tordeschiavi. Tra gli ospiti di queste nuove case si trovano molti di coloro che hanno sofferto per anni la triste esperienza delle borgate abusive. Del nuovo ambiente soprattutto i ragazzi risentono un immediato vantaggio. Ponte Mammolo dà il nome a una nuova borgata modello fresca di case candide e fiorite che si arricchisce anche della presenza dell'istituzione Gerini fornita di impianti sportivi, di una scuola industriale e di un centro ricreativo affidato ai padri salesiani. San Basilio tra la via Tiburtina e la via Nomentana. Una borgata composta tutta di case nuove, case popolari ma decorose e ospitali. Ha la sua scuola, la sua chiesa, il suo mercato. è la residenza più propria dei lavoratori che fanno capo alla vicina zona industriale di recente ma già notevole sviluppo. Nei pressi della via Nomentana man mano che scompaiono le vecchie case ultrapopolari sorgono gli edifici di Pietralata, un'altra borgata che tra non molto potrà considerarsi risanata. ma dove le tracce di un passato di miseria e di abiazione sono del tutto scomparse è a Tormarancia. Qui questa grande buca ora verdeggiante dove i ragazzi giocano era ricoperta di baracche simili a quelle che abbiamo visto al Prenestino o alla borgata Gordiani che si estendevano tutte intorno dove ora sorge un nuovo e luminoso quartiere a pochi passi dalla via Cristoforo Colombo la nuova direttrice di Roma verso il mare. Al posto dell'attuale villaggio olimpico che è già stato consegnato al Coni per ospitare gli atleti delle imminenti competizioni e che ospiterà dopo le Olimpiadi famiglie di pubblici impiegati sorgeva il tristemente famoso Campo Parioli un agglomerato di baracche e di casupole. Anche le zone dove sorgono gli impianti sportivi e i dintorni di esse erano coperte da costruzioni abusive e precarie. Coloro che le abitavano hanno già ricevuto la loro casa. Un altro quartiere periferico del tutto nuovo alla cui nascita hanno collaborato tutte le istituzioni preposte all'edilizia popolare e che sorge dove era una landa di tufo interrotta qua e là da vecchi ruderi e quello che si estende lungo la via tuscolana dal quadraro a Cinecittà sulla direttrice dei colli albani. Questi edifici questi nuovi quartieri che per decine e decine di chilometri cingono con il loro abbraccio di cemento armato la città consentono di credere che tra non molto tutta la periferia di Roma sarà così e nessuno dirà più la frase rassegnata e triste della donna della borgata Gordiani ho cercato tanto ma non c'è niente da fare. la strada mia la strada è lunga ma er di più l'ho fatto so dove arrivo e non me piglio pena c'ho il cuore in pace e l'anima serena del savio che s'ammaschera da matto se me frulla un pensiero che me scoccia me fermo a beve e chiedo aiuto al vino poi me la canto e seguito il cammino col destino in saccoccia. Il ponte Guglielmo Marconi è un'opera di recente costruzione fu inaugurata quattro anni or sono e costituisce quindi un degno inizio per la via olimpica dopo la via o derisi da Gubbio una prima parte di nuova costruzione per i romani il luogo è inconfondibile siamo nel quartiere portuense l'omonima via che reca a Fiumicino non sarà traversata con un normale incrocio la via olimpica la supererà con un cavalcavia lungo 56 metri a quattro luci di 15 metri ciascuna i lavori sono già a buon punto e saranno ultimati prima dell'estate anche per superare la strada ferrata della linea Roma-Pisa un altro cavalcavia è in cemento armato precompresso a 35 metri di luce e si prosegue tra i nuovi palazzi della circonvallazione genicolense la via olimpica la via olimpica percorre per intero tale circonvallazione ne sfrutta l'ampiezza attraversa una zona costruita in questi ultimi anni un arioso quartiere sorto in gran parte con le provvidenze dedicate all'edilizia sovvenzionata qui ci si trova circa a metà della via olimpica e qui si incontra un altro allacciamento di nuova costruzione che collega la circonvallazione gianicolense all'antica via a vitellia è un ampio tratto di strada costruito espressamente per la via olimpica il convento delle clarisse anch'esso moderno vi si affaccia si sale al punto più alto di tutto il percorso alla piazzetta del bel respiro che riporta per un attimo nel clima della Roma di un tempo quindi sempre col tracciato di nuova costruzione si discende attraverso la villa Doria Panfili il tratto è ormai in via di ultimazione si sta ponendo la massicciata cioè il sottofondo stradale a questo punto la via olimpica incontra l'aurelia antica silenziosa e circondata la ville famose e la supera ad un balzo con un cavalcavia ora in costruzione che avrà una luce di 12 metri la villa del vascello con gli alberi secolari è a qualche centinaio di metri dalla via olimpica e richiama con le sue mura sberciate i ricordi garibaldini grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti